stasera nella ormai tipica introduzione che faggio ad ogni argomento voglio portare un po di storia un po un po di origine da dove tutto è decollato per la conoscenza approfondita dei trigger point c'è da dire ad onor del vero che il concetto dei punti dolenti muscolari lungo tutto il corpo era noto in ambiente medico da più di un secolo però non nei dettagli scientifici così accuratamente descritti circa 40 anni fa nei primi anni 40 che qualcuno si stava domandando cosa fossero mai quella specie di noduli così dolorosi che si sentivano tramite la palpazione sottocotanea così dai primi studi la dottoressa janet travel identificò questi nodi muscolari che formandosi creavano dei dolori diffusi in tutto il corpo circa un ventennio dopo quindi parliamo degli anni 60 sempre dottoressa travel si dedicò insieme al dottor simon uno studio di quelli che ancora oggi sono battezzati con il nome di trigger point a compimento di tutto questo quindi di questi studi nel 1983 travel e simon pubblicarono quella che ancora oggi possiamo definire il testo più grande a riguardo dell'argomento che si chiama dei trigger point manual dalla pubblicazione di questo manuale sono state prese le tecniche per trattare i trigger point per il rilascio mio fasciale questo libro potete immaginare portò una rivoluzione nel mondo della reumatologia dell'ortopedia della fisioterapia proprio con un cambiamento radicale nel modo di considerare e curare i pazienti con dolori cronici da quella data in poi tantissimi professionisti di tutto il mondo utilizzarono nelle proprie pratiche questi tipi di trattamento la dottoressa travel ebbe modo di sperimentare le sue tecniche anche sull'illustre presidente gli stati uniti d'america john fitch gerald kennedy questo gli permise a sua volta di diventare suo medico personale e oltretutto anche medico ufficiale di quei tempi della casa bianca le sue tecniche di allora erano rivoluzionarie cambiarono la vita a milioni di persone tra le quali kennedy il quale si dice che soffriva di tremendi dolori a causa delle ferite riportate durante la seconda guerra mondiale e anche ai successivi interventi a livello chirurgico che aveva dovuto subire la travel dedicò la sua vita allo studio dei trigger point e quello che la spinse in quella direzione furono due aspetti fondamentali il primo che il dolore era la principale lamentela dei suoi pazienti e questa la indusse alla seconda causa al secondo motivo che la principale causa di dolore era di natura mio fasciale e in particolare muscolare indipendentemente dalla diagnosi della malattia dei pazienti invece capire come l'apparato muscolare era causa della stragrande maggioranza delle sindrome dolorose nei pazienti e come allo stesso tempo mosse una critica alla medicina che pur specializzandosi la rese colpevole di ignorare il sistema muscolare nelle sue specializzazioni e possiamo dire anche che ancora in italia pensando al concetto di terapia manuale la situazione ancora molto deficitaria bene buonasera a tutti ben arrivati a questa nuova diretta numero 47 vedo che siete in tantissimi collegati stasera quindi sto scorrendo un attimo una pagina buonasera a tutti ciao vi contraccambio il saluto ovviamente non mi metto a salutarvi uno per uno perché altrimenti rischieremmo di fare una diretta di un'ora ciao a tutti buonasera buonasera a tutti non faccio nome per non fa torto a nessuno pensate che è già un anno e mezzo che siamo insieme e sappiamo con certezza di farvi cosa gradita perché anche questa settimana siete stati in tanti ma veramente tantissimi a chiederci come vedere il corso live di questa sera a proposito vi ricordo che i corsi ve lo ricordo sempre ovviamente mi rivolgo ai nuovi a chi è collegato con noi per la prima volta stasera vi ricordo che i corsi rimangono sulla pagina facebook per cui potete rivederli o vederli successivamente senza diciamo perdere nessun contenuto non ci vediamo dal 14 di ottobre penso tre settimane ma non siamo stati con le mani in mano in queste ultime settimane abbiamo completato i nuovi video corsi e da breve saranno a disposizione penso entro metà novembre ci siamo dai ma ve ne parlerò più dettagliatamente alla fine del corso intanto in aula in questo periodo abbiamo fatto un sacco di corsi abbiamo protocollato l'opston massage un corso in aula scenografico da morire da insegnare e che riscuote sempre in aula un grande entusiasmo da parte dei ragazzi che vengono ad impararlo abbiamo fatto il tapping muscolare altro corso innovativo dove i ragazzi adorano farsi trattamenti reciprocamente mentre provano le tecniche perché sentono proprio subito l'efficacia del nastro abbiamo fatto un corso di anatomia palpatoria sempre indispensabile per il giusto approccio al massaggio e l'ultimo fine settimana quello scorso abbiamo fatto il corso di hawaiano lomi lomi noi dove diciamo che gli allievi iniziano a capire la parola olistico e contemporaneamente anche un corso di posturale di primo livello dove poi seguirà un secondo livello beh comunque ne abbiamo fatti allora iniziamo allora a parlare dell'argomento di questa sera nell'introduzione abbiamo visto che un po di storia delle origini fa bene capire dove da tutto parte mentre adesso ci addentriamo proprio nello specifico premetto che un argomento come trigger point è molto complesso e come sempre in 30 minuti 40 minuti mi concentrerò sulle parti essenziali dandogli una chiave di lettura sempre relativa al nostro mondo del massaggio e senza andare a sconfinare il terapeutico perché stasera tra l'altro sarebbe anche molto facile ma soprattutto volendo di dare è un indirizzo un indirizzo di lavoro proprio da capire come si va a lavorare sui trigger è anche un indirizzo di tipo formativo che voi dovreste fare eventualmente per poter lavorare su di essi questo dovrà servirvi a capire come muovervi dentro a questo argomento partiamo e proviamo a dare una definizione corretta al trigger point intanto il nome significa punto grilletto se leggiamo sul vocabolario la definizione di grilletto c'è scritto testuali parole parte del congegno di scatto delle armi da fuoco infatti infatti direi che una definizione appropriata perché proprio come un grilletto questi punti se stimolati sparano il dolore a distanza proprio come un'arma trigger point miofasciali sono descritti appunto come dei punti irritabili presenti in una bandelletta muscolare contratta nella quale sono presenti dei noduli palpabili ora piano piano capiremo meglio questo concetto questi noduli sono ipersensibili alla stimolazione manuale possono produrre sintomi dolorosi sia sul posto quindi locali o riferiti come dicevamo no poco come l'effetto dello sparo in merito a questa definizione c'è chi ne fa un'ulteriore distinzione definendo per esempio il dolore locale tender point il dolore riferito appunto il trigger point comunque a prescindere dalla definizione è riconosciuta come una delle forme che è possibile trovare in un tessuto muscolare contratto cerchiamo di capire allora come si formano questi trigger point mi scuso ma in questa piccola fase dovrò addentrarmi spiegazioni tecnico anatomiche e dove non potrò valermi in questo momento di piccole slide anche grafiche per far capire meglio alcuni concetti perché a volte a seconda di quello che andiamo a passare come argomento facebook è un po troppo sensibile e se la c'è la sera annoia e quindi meglio evitare vi ho parlato della definizione di una bandelletta tesa muscolo formato da fasci muscolari che vai nella sua centralità motoria vanno a creare diciamo il famoso ventre muscolare i quali nelle sue sezioni più piccole si dividono in tante miofibrille le quali a sua volta sono divise longitudinalmente da tante sezioni separate tra di loro come tante piccole camere stagne chiamate sarcomeri all'interno dei sarcomeri avvengono le sovrapposizioni delle miosine con le attine queste sono due filamenti proteici i quali determinano la contrazione muscolare a tenere insieme queste miofibrille tra le varie costituzioni organiche di tessuti che ci sono c'è anche il reticolo sarcoplasmatico tra le sue funzioni di questo reticolo c'è quella di trasportare e accumulare ionicalcio una eventuale lesione del reticolo può portare a un rilascio eccessivo di questi ionicalcio la quale è una molecola necessaria per attivare la contrazione muscolare quindi cosa va ad innescare va ad innescare una contrazione prolungata delle fibre muscolari una simile una simile contrazione che interessa più fibre muscolari nella stessa aria arriva a formare eccola una bandelletta tesa di alcune quantità di miofibrille e cosa succede tecnicamente che le fibre muscolari contratte si uniscono e si avvicinano perdendo di elasticità mentre le altre intorno quelle che non sono state coinvolte sono costrette ad allungarsi perché per mantenere la stessa struttura nella stessa dimensione se ho una parte centrale che mi si accorcia la parte distale la parte prossimale di quel sarcomero è naturale che quindi le due parti laterali è naturale che si allunghino proprio come un elastico tirata quando però il muscolo deve lavorare e si deve contrarre non riesce a reclutare tutte le fibre che gli servono e di conseguenza che cosa avrà una riduzione della forza che non tutte le fibrille saranno idonee alla totale contrazione perché sono alcune abbiamo detto blocate questo nel tempo comporterà un forte rischio di lesione fino anche alla rottura delle fibre muscolari se il trigger point non viene eliminato ma questo lo vedremo tra poco come fare si arriverà ad una contrazione prolungata che andrà a comprimere i vasi che vascolarizzano il muscolo che portano al nutrimento andando a ridurre la circolazione locale impedendo così l'adeguato rifornimento di ossigeno e quindi il famoso cane che si morde la coda questo processo andrà ad ostacolare la guarigione se questa condizione poi diviene cronica il muscolo si può contrarre ulteriormente e diventare fortemente doloroso quindi ricapitolando il segnale della presenza di un trigger porterà alla perdita di elasticità muscolare un deficit sull'attività muscolare una riduzione della forza ed il rischio di una lesione frequente sfociando possibilmente in uno strabo ma come ci accorgiamo di avere un trigger point all'interno del nostro corpo oppure del nostro cliente in questo caso considerandoci dei massaggiatori il concetto di dolore riferito rappresenta uno dei tratti caratteristici e più comuni dei trigger point se il vostro cliente al momento della stimolazione sente un dolore in un'area adiacente al punto stipulato può voler dire che siamo in presenza di un trigger attenzione che esiste anche una mappa ben precisa di punti trigger con dolore riferito che nel dubbio nell'incertezza o nella non conoscenza ancora appropriata della materia uno può anche andare a controllare a vedere se il punto che sta digitando il nostro cliente con un dolore particolarmente intenso e riferito possa corrispondere esattamente anche a quella zona di un eventuale trigger trigger poi possono teoricamente crearsi in ogni muscolo del corpo tranquillamente poi sappiamo che esistono muscoli che con maggiore frequenza ne ospitano uno più di uno questi muscoli sono quelli della zona cervicale e lombare in prevalenza perché sono le regioni anatomiche più soggette al sovraccarico quotidiano e alle posture scorrette errate i muscoli più colpiti di solito sono il muscolo trapezio superiore l'elevatore della scapola lo sternocleido mastroideo il quadrato dei lombi ed il piriforme dei muscoletti che non vi posso ammiccare perché non posso girare ognuno di questi muscoli possiede delle specifiche aree nelle quali può dar vita a dolore riferito per esempio il trapezio irradia il dolore alla parte superiore del collo fino alla regione temporale e può trasmettersi anche all'angolo della mandibola l'elevatore della scapola invece tipico esempio del torcicollo si irradia dall'apice alla nella scapola fino alla nuca lo sternocleido mastroideo invece l'occipite e anteriormente nella zona del sopracciglio la guancia e la gola il quadrato dei lombi può essere avvertito sulla cute del gluteo o lateralmente all'anca fino addirittura su alcune persone nella regione inguinale mimando anche i sintomi della pubalgia il piriforme può essere causa di dolore alle natiche ed anche avere una trasmissione agli arti inferiori con effetto come diciamo sempre in aula quando andiamo a vederlo analizzare lo sto belletto piriforme con il famoso effetto della finta sciaglia i trigger point si distinguono in attivi o latenti sono merbanti come si dice in toscana un trigger attivo provoca sempre un dolore in una zona ben definita sia a riposo che in fase dinamica e in genere peggiora la sua condizione durante l'attività fisica è sempre dolente e addirittura la capacità di ridurre la forza e l'allungamento muscolare il trigger latente invece può avere tutte le caratteristiche di un trigger attivo con l'eccezione che non provoca dolore al riposo o durante i movimenti e come è lì ma noi non sappiamo al limite anche di averlo ma questo non riesce a fare solo tramite la palpazione il latente può rimanere tale anche per anni e anche iniziare una serie di attivazioni e disattivazioni anatomiche nel tempo gli elementi e le condizioni invece che possono attivarlo sono per esempio un sovraccarico una postura scorretta e prolungata nel tempo una trauma un affaticamento muscolare contrazioni improvvisi o prolungate nel tempo questo possono attivare un trigger point latente e quali sono allora le tecniche per riconoscere un trigger point la prima manualità è la palpazione piatta così chiamata non va eseguita con il palmo della mano ma con le dita è utilizzando la falange più distale con movimenti trasversali in modo da far scivolare il tessuto sottocutaneo sulle fibre muscolari quindi si va diciamo trasversalmente alle fibre del muscolo a fare questa ispezione la palpazione ha un'intensità medio leggera e non dovete andare a premere particolarmente in profondità però procedendo perpendicolarmente proprio al decorso principale delle fibre quello che si evidenzia per primo se il muscolo sede trigger è una specie di segno della corda così è chiamato perché capite bene il nodo crea situazione tensiva a monte e a valle quindi va a creare questa specie di corda quindi non è la classica compattezza della fascia muscolare ma è proprio proprio un aspetto cordiforme come una corda tesa subito dopo la palpazione si va ad evidenziare una sorta di iperemia quindi si va a creare un aumento di sangue nei vasi del punto stimolato e ce ne rendiamo conto anche visivamente l'esistenza di queste bande è resa possibile sentirla quando una muscolatura che andiamo a ispezionare è al di sopra sovrasta una struttura ossea mentre per muscoli di tipo uno sternocleido mastroideo o addirittura oppure la famiglia degli scaleni mancando un supporto rigido sottostante invece occorre effettuare la palpazione a pensettamento quindi questo tipo di manualità qua si esegue afferrando il ventre muscolare interessato tra pollice e dita e sfregando le fibre tra di loro con un movimento a rolling avendo avanti e indietro proprio per localizzare le bande tese una volta localizzate si cerca di capire la loro lunghezza e contemporaneamente si cerca di evidenziare la sua massima sensibilità facendo noi una minima pressione sulla zona questo è un altro indice importante per capire se siamo noi in presenza di un trick arrivando all'ultima palpazione quella chiamata a scatto consiste nel pizzicare la banda attesa come la corda di una chitarra laddove però attenzione il muscolo ritornando al discorso di prima è supportato da una superficie sottostante dura quindi in presenza di scheletro altrimenti si effettua un pinzettamento diciamo di tipo fisso e si va proprio a scovare all'interno della banda tesa quel punto proprio di massima sensibilità e a quel punto lo si va proprio a percepire come un nodulo e toccandolo questo ce ne rendiamo conto perché va proprio a riprodurre esattamente il dolore che il cliente ci aveva già manifestato è che aveva che già sentiva ovviamente se il trigger è attivo cioè un dolore locale intenso e contemporaneamente anche un effetto di dolore riferito tutti e due quando trovate questo punto trigger sentirete sotto le vostre dita o nella peggiore delle ipotesi come un piccolo capo di spillo ma questo può aumentare nelle dimensioni fino addirittura anche arrivare alle dimensioni di un fagioli di un fagiolo un cecio per capirsi ed il vostro cliente vi darà conferma perché avrà un improvviso momento di dolore facendolo saltare quindi questa è un'altra dimostrazione che siamo trigger il trattamento dei trigger point e miofasciali non si discosta molto da quello delle contratture muscolari quindi chi ha già fatto il corso di massaggio decontratturante con noi in aula sa di cosa sto parlando essendo un punto sottoposto ad ischemia locale ed ipossia cioè che i tessuti non sono ossigenati adeguatamente in quei punti si trova insufficienza di ossigeno nel sangue ed è chiaro che va a creare come dicevamo prima i presupposti per il trigger e dovremo quindi fare tutti i trattamenti che ci permettono di favorire l'afflusso di sangue e quindi l'ossigenazione dei tessuti in quel deciso la compressione ischemica è la tecnica utilizzata per eccellenza poiché andando a provocare un ischemia localizzata va a favorire in contrapposizione una iperemia successiva con aumento del flusso sanguigno aumentando quindi la circolazione di sangue nei tessuti e andandoli ad ossigenare è un po come rompere una diga e arrivare un fiume inaspettato quindi individuata la banda tesa teniamo premuto il punto andando a ricercare una ischemia temporanea nella zona cosa sentirete sotto il vostro pollice un certo punto il trigger dopo aver lottato e resistito e avendo anche alcuni momenti di repulsione come uscire dal corpo quindi che avrà diciamo lottato e resistito alla vostra pressione cederà e diminuirà la sua consistenza e la sua dimensione dobbiamo continuare fino a che il dolore non si riduce in modo soddisfacente questo è un altro termometro che il nostro cliente ci dirà sicuramente questa manovra la potete ripetere anche più volte al fine di insistere maggiormente sull'area e sciogliere così proprio definitivamente il trigger point potete anche oltre alla tecnica della pressione ischemica ci sono anche altre tecniche che potremmo imparare ed esercitare per esempio la tanto conosciuta e citata tecnica dello stretch spray come funziona individuato il muscolo disfunzionale si passa per qualche secondo uno spray freddo del semplice ghiaccio spray le improvvise sensazioni di freddo bloccano la trasmissione dei segnali del dolore ed inoltre il ghiaccio ha la caratteristica di inibire e quindi va ad inibire la contrazione e permette così l'allungamento quindi adesso portate molto lentamente in allungamento il muscolo raggiungendo il massimo grado di stretching questo fattore meccanico fa sì che il sarcomero che è il più piccolo componente delle fibre muscolari si allunga e si rilassa al termine ovviamente dell'operazione si riporta il muscolo lentamente in accorciamento è una tecnica che va eseguita però molto bene deve essere chiaro come allungare il muscolo senza provocare dolore e senza avere il famoso effetto mio tattico è necessario imparare per questo le tecniche di allungamento muscolare ma su questo aspetto non ci sono problemi lo sapete bene perché lo fate al nostro corso sportivo dove si insegnano circa 40 tecniche di stretching che vi aiutano poi a capire meglio come trattare la disfunzione con questo tipo di tecnica sempre tramite gli esercizi di stretching può essere utile svolgere della blanda attività aerobica questo per allungare la muscolatura ma dovete fare attenzione a quanto è grande a quanto è importante la contrattura che potrebbe peggiorare il suo stato di contrazione perché spesso è sensibilizzata al riflesso di stiramento allora potrebbe essere utile prima risolvere la contrattura manualmente ma questi sono poi aspetti tecnici che andiamo ad approfondire in aula non sempre capite bene si riesce a capire se siamo in presenza di un trigger point oppure di una semplice contrattura non è sempre scontato è sempre facile da capire un'altra tecnica che possiamo utilizzare è la hold and relax cioè tecniche di energia muscolare si basano nel contrarre il muscolo in condizione isometrica cioè statica che non preveda all'allungamento del muscolo e successivamente sfruttare il rilassamento post contrazione per portare sempre anche in questo caso il muscolo in allungamento questo perché il rilassamento successivo alla contrazione permette in alcuni casi lo scioglimento dei punti contratti esistono anche altre metodiche studiate ed applicate per risolvere i trigger point con tecniche che si rifanno ai principi dell'agocultura a tutti gli strumenti fai da te come palline rigide rulli attrezzi metallici di legno fino all'automassaggio chi di voi sarà interessato curioso saranno motivo di approfondimento personale quello che a noi stasera interessa è capire che tipo di trattamento siamo in grado di fare amici le nostre tecniche di massaggio che è il nostro mondo e per molti di noi un mestiere e vi ho detto le tecniche che possiamo applicare sul muscolo quello che noi possiamo fare da operatori del benessere mentre i corsi all'interno della nostra scuola che possono portarvi a sviluppare una conoscenza di una sensibilità al trattamento di trigger point sono il corso decontratturante nel quale andiamo ad imparare proprio le tecniche principali della pressione ischemica il corso di massaggio sportivo andiamo ad imparare le tecniche di stretching e come applicarle il master tecnico mio fasciale che ci dà consapevolezza del lavoro sulla fascia legata al muscolo ed il suo trattamento con la tecnica del trasverso profondo ma anche la messa in tensione della fascia il corso di posturale di primo secondo livello che dove andiamo ad imparare il riequilibrio in quel caso delle catene muscolari potremmo anche metterci il trattamento connettivale tutte queste tecniche interagiscono tra loro come sempre non dobbiamo mai pensare che nel mondo del massaggio una tecnica sia fine a se stessa tutta la formazione serve per lavorare all'unisono su di un corpo e per adoperare le migliori tecniche al momento bene per stasera mi fermo qui con l'auspicio di avervi chiarito un po l'argomento ma salutarvi devo però comunicarvi purtroppo che con l'ultimo dpcm del governo ci dobbiamo nuovamente fermare con la formazione in aula siamo non lo nego sicuramente dispiaciuti ma nello stesso tempo capiamo quanto sia importante in questi casi salvaguardare la salute di tutti noi e anche quella ovviamente dei nostri allievi che ci stanno particolarmente a cuore quindi salvo nuovi dpcm torneremo in aula il 5 e il 6 dicembre con il corso thai oil però ovviamente tutto questo è subordinato al fatto che possono non lo sappiamo uscire nuovi dpcm invece per chi per chi vorrà anticipare o integrare la formazione continua quella fuori dall'aula ad inizio diretta vi ho accennato dei nuovi videocorsi che usciranno nel giro di una settimana e potrete avere a disposizione il corso anticellulite il corso iurveda il corso californiano il corso voiano ed il thai oil cinque corsi della nostra formazione olistica ci tengo a dirvi che saranno corsi tecnicamente completi come gli altri cinque in piattaforma abbiamo già costruito del che fanno parte del diploma sportivo perfetto non mi resta adesso veramente che salutarvi ricordandovi che noi ci vediamo la prossima settimana ci vedremo a distanza breve a distanza di una settimana quindi mercoledì 11 novembre sempre alle 21 e 30 con un nuovo argomento per un nuovo corso online vi ricordo come sempre per qualsiasi informazione scrivete in posta privata oppure chiamate al numero di segreteria 0 5 7 8 6 2 7 7 2 grazie come sempre ciao grande famiglia stasera abbiamo battuto credo ogni record ne siamo veramente felici ci vediamo presto vi mando un bacio e vi abbraccio tutti quanti come sempre